Un giorno due fratelli con il padre si fa una doccia e nel pene, nel pene, lo aprono tutto e trova una sostanza bianca. Il bambino, in camera, si informa su Google e trova questa parola smegma. Poi ogni giorno ripete smegma, smegma o macchina nella testa. La dama e dice perché? 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 Perché io ho visto questa parola, la testa smegma, smegma. Sai figlio, sei proprio una testa di cazzo.